Ciao, eh? Ciao. Buongiorno! Buona carla. Ma sei tu? Non vede l'ora di farti vedere una cosa, ma una sorpresa, eh? Non te la so già. Allora, fai finta di non saperla. Buongiorno. Ma quello è tuo papà? Sì, ma sta andando via. Ma mi fa piacere incontrarlo. Purtroppo devo scappare anch'io perché è una giornata complicatissima. Sono il papà della Serena, mi ha chiesto di accompagnarle allora. Ma certo, ci siamo sicuramente già visti alla scuola dei ragazzi. Buongiorno. Dino Ossola, tanto, tanto piacere. Lei lo sa vero che qui siamo tutti innamorati di Serena. Ma anche lei parla solo di voi. Sono anche un po' gelosa. Guardi cosa le dico. Peccato che devo scappare via subito, che ho un impegno urgente. Se no magari avremmo potuto bere un caffè anche con Giovanni. No, ma non si preoccupi. Guardi, anch'io oggi è una giornata un attimino hard, con rispetto parlando. Arrivederci. Di nuovo. Andiamo, andiamo, sono in ritardo.